Siamo con Vincenzo Di Pinto, l'allenatore di Taiwan Excellence Latina. Un tuo giudizio sulla partita di questa sera? Ma è stata una partita sicuramente dai due volte, perché nei primi due set la loro battuta e direi anche in difesa ci hanno condizionato. Poi invece è diventato il contrario, perché stavamo battendo meglio, facendo tutto meglio noi. Secondo me avevamo meritatamente riaperto la partita, anche il quarto set si stava avviando nei nostri confronti. Poi da capo una serie di battute rischiate al massimo, sono anche battute che vanno e ci vuole anche un pizzo di fortuna. No, purtroppo, evidentemente questa sera c'erano queste battute, le hanno proprio tirate, tirate in angolini e le è andate a bene. Un campionato che comunque è avvincente, perché c'è un livello alto per un po' tutte le squadre e tutte le partite possono dire tutto e il contrario di tutto. Sì, questo sicuramente, anche se Verona ha delle potenzialità notevolissime. Ha fatto degli ottimi investimenti e ha delle potenzialità altissime. E lì, non a caso, è lì dietro alle prime della Quasifra, non è un caso, ci sta tutto. Però noi oggi abbiamo dimostrato che purtroppo è un annato un po' particolare per noi, che dobbiamo accettarla e basta. Vi ringrazio e in bocca al luogo per il prossimo. Grazie, prese.